Ho cercato di fare una sintesi del lavoro che abbiamo fatto, del lavoro che stiamo facendo, della nostra visione, dei nostri programmi, delle nostre idee. Ora sta a voi. Certo, anche gli altri hanno i loro programmi, hanno le loro proposte, hanno le loro idee. Ho letto un'illuminante intervista della candidata presidente del Campolargo. Gli hanno chiesto, ma perché uno dovrebbe scegliere lei e non Paolo Truzzo? Per l'antifascismo. Bene, bene. Programma concreto, articolato, innovativo. Bene, bene. Che vi devo dire, signori? Fate voi. Fate voi. Viva l'Italia, viva la Sardegna, viva Paolo Truzzo, viva il centrodestra unito. Grazie!